E adesso dedichiamo questo articolo a Salvatore Di Carlo corteggiatore di Uomini e Donne di Teresa Cilia, ma volto noto della trasmissione da alcuni anni, ricordiamo infatti che ha partecipato anche a Ragazzi e Ragazze, come corteggiatore di Anna Munafo, ma anche come tentatore di Temptation Island, ma insomma sembra che abbia trovato il suo vero interesse solamente adesso, almeno questo auguro a Teresa Cilia, che mi sembra abbastanza persa del bel siciliano, non se ne abbiano a male le fans di Fabio Colloricchio, ma Teresa come guardo saggo suo non guarda nessuno. Ma questa volta vi parliamo di Salvatore Di Carlo per un altro motivo come saprete perfettamente il corteggiatore è anche giocatore di calcio ed in particolare della squadra del Vittoria, Come vedremo nella prossima esterna in televisione, piccola anticipazioni di Uomini e Donne, ma addirittura da piccola si era messo in mostra anche nelle squadre più importanti e niente di meno dalla squadra italiana della Juventus. E da questo messaggio che Salvatore Di Carlo su Instagram intuiamo chiaramente che non solo è stato un onore per il prestigio intrinseco della squadra, ma anche perché era la sua squadra del cuore da bambino e per questo pubblica una foto con la maglia della Juventus. Sono passati dieci anni. E ricordo ancora quella chiamata, la chiamata che ogni bambino che dà calci ad un pallone vorrebbe ricevere quella chiamata che può cambiarti la vita quella chiamata che significava tanto quel tanto che sarebbe stato il calcio che conta proprio quello che sognavo io da bambino X Un bambino che il suo cuore batte bianco nero, Juventus, la squadra del cuore sarebbe stato troppo bello X essere vero. Non so se si è capito da quello che ho scritto, ma non sono assolutamente una tifosa di quello sport dove c'è una palla che rotola e un branco di maschioni che si menano per buttarlo in una porta o nell'altra. In ogni modo ho visto nei commenti che non tutte hanno appreso con felicità che Salvatore Di Carlo sia Juventino. Grazie.